Guardate! Un aquilone! Ma no! È un aereo! No! Arriva Lucilla! Ciao bambini! Come state? Siete felici? Anch'io! C'è una cosa molto importante da fare sempre quando siamo felici! Farlo vedere! Perché la felicità è contagiosa! Allora, facciamolo vedere con questa canzone insieme a Penelope, Martina, Ricky e Valentino! Siete tutti pronti? E allora cominciamo! Se sei felice tu lo sai batti le mani Se sei felice tu lo sai batti le mani Se sei felice tu lo sai dimostrarmelo potrai Se sei felice tu lo sai Batti le mani Se sei felice tu lo sai batti i piedi Se sei felice tu lo sai batti i piedi Se sei felice tu lo sai dimostrarmelo potrai Se sei felice tu lo sai 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 fai un salto Se sei felice tu lo sai dimostrarmelo potrai Se sei felice tu lo sai dimostrarmelo potrai Se sei felice tu lo sai lo sai manda un bacio se sei felice tu lo sai manda un bacio se sei felice tu lo sai dimostrarmelo potrai se sei felice tu lo sai batti le mani batti i piedi fai un salto manda un bacio se sei felice tu lo sai fai un saluto ciao ciao se sei felice tu lo sai fai un saluto ciao ciao se sei felice tu lo sai dimostrarmelo potrai se sei felice tu lo sai batti le mani batti i piedi fai un salto manda un bacio fai un saluto ciao ciao se sei felice tu lo sai dimostrarmelo potrai se sei felice tu lo sai batti le mani batti i piedi fai un salto manda un bacio fai un saluto ciao ciao bambini vi è piaciuto questo video allora venite a trovarmi ogni ultimo sabato del mese a luna farm il parco divertimenti di bologna per ballare insieme a me penelope martina ricky e valentino vi aspetto tutti ciao ciao